...invernale, questa mattina c'era tanto solo, ecco perché ci è venuto in mente di fare queste immagini proprio in una giornata luminosa, ma la giornata non ci ha assistito. Tuttavia siamo contenti lo stesso, qui siamo in via, quella che si chiama oggi via Vecchio Mattatoio, meglio conosciuta come Borgata Vezzola. Siamo venuti qui perché vogliamo ricordare com'era questo quartiere, chi ci viveva, cosa si faceva e siamo venuti a trovare tre persone che ci aiuteranno in questa nostra piccola ricerca. Il signor Umberto Ranalli che è nato in questa zona, detto Palmandò, carrettiere all'epoca, la signora Peppinella Pompei che aveva il mulino e la signora Domenica Pace di Francesco, sotto la sua casa c'era il frantoio. Queste persone ci aspettano, allora andiamo. Signora Domenica, lei in questa casa c'è nata? No. Non ci è venuta la sposata? Nemmeno. A che età? Come ho governato a sedici anni. A sedici anni le faceva governante per la famiglia che era qui? Sì. Che famiglia era? Famiglia di Francesca. E poi ha vissuto qui quanti anni quindi della sua vita? Per cinquanta e due anni. È cambiato molto in questi cinquant'anni? Sì, molti, moltissimi. Che ricordi ha lei dei primi tempi che è venuta qua? Era molto diversa la zona, le case che c'erano? Sì, c'erano tutte le case vecchie, c'era il mulino, l'acqua, c'era tutto. Qui c'era il frantoio, vero? Sì, un frantoio di sotto. Lei lavorava o ci andava a vedere? No, non lo lavorava come capo operaio. E quindi lo vedeva nel frantoio, lo conosceva bene? Sì, 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 sì. Quante persone lavoravano con voi? Sedici operari, prima, poi io quattro perché abbiamo una giornata. Come si chiamava il frantoio? Il frantoio di Francesco? Di Francesco, sì. E abitavano, venivano a mangiare qui, dove stavano a pranzo qui, sotto. Si ricorda qualche nome di persone che lavoravano con voi al frantoio? Come no? Demizio Franco, Demizio Domenica, di Odora, Lamberta, Farelelli e Giuseppe. Giuseppina, o meglio, Peppinella Pompei. Lei aveva il mulino qui? Sì. Un mulino che funzionava come? Acqua, acqua e lette. All'acqua è più tardi. Lei ci lavorava proprio? Sì. E guarda bambini, dai. Che faceva? Eh, si macinava. Che ricordi havi di questo lavoro? Eh, insomma, ci stavano tanti agenti, i condalini che lavoravano loro, si metteva i grani sopra la macina, poi usciva la marina sotto, poi si doveva in carro, si doveva mettere sui sacchi. Insomma, tanti lavori. Qual è il ricordo più bello che ha di questo quartiere di tanti anni fa? Beh, prima era bello, perché c'era in Ammattatona, insomma, ci passavano qui tante agenti, tanto in tutti i paesi ci passavano Viola, Cannella, Giussano, tutti i ragazzi venivano a scuola, poi da me si cambiarono le scarpe, capito, al mulino. Si prendono le scarpe, venendo a vedere le lavandaglie, andavano sotto le lavandaglie. Ah, no, le lavandaglie erano al fiume. Sì, al fiume. Ognuno aveva il suo posto. Al fiume. Ognuno aveva il suo posto. Non poteva, ogni mattina andavano nello stesso posto. No, ci stavano la nera, c'è qualcosa che c'era. Ognuno aveva il suo posticino. E si portavano la tavola, di mano, che portavano? No, ognuno aveva la sua pietra. Venivano con le ceste, erano a fiume. Sì, sì, con le ceste, venivano a lavare. Poverina, se l'andavano la sera, si portavano un pezzo di pane, se lo mangiavano. Era un lavoro di pane. Sì, un lavoro di pane. Poverina, fino alla sera, fino alla sera tardi. E l'asciugavano come? L'asciugavano, per esempio, con la siepe, mettevi i pane, l'asciugavano. Cantavano? Ah, sì, cantavano pure. Sì, sì. Anche ridicavano. Criticavano perché se vuoi ci sembrava la pietra, no? Allora ridicavano, io andavo. Forse gli chiamavano, non mi ricordo, la Maldone, ma non mi ricordo il nome. La Maldone. Allora, dov'è che era il mattatoio qui? Il mattatoio stava qua. E' un edificio molto grande? Insomma, era bello grande, lavorava 7-8 macellai, pure di più a quei tempi là. Quindi perciò questa si chiama via del mattatoio vecchio? Sì, il mattatoio vecchio. E quando è stato spostato? Tanti anni fa. Come andiamo? Qua passavamo noi con i muri, la carrettiera, poi era una salita fedendissima che qua ti crepava persone e bestie. Lei faceva il carrettiere con tutta la sua famiglia? Il carrettiere. Come che vi si dice a voi? Palmandò? Palmandò. Però non Palmandò perché mio nonno nacque la Domenica delle Palme e a quei tempi si usava a rispettare i santi. E io mi dice il nome Palma Antonio Ranalli. Ecco come è uscito da Palmandò. Quindi lei è Umberto Ranalli Palmandò e tu discende da Palmandò. Mio nonno, Palmandò. E se tu domandevi a qualcuno mi servirebbe un po' di sabbia mi sa indicare dove è il carrettiere Ranalli. E chi lo sa? Noi lo conosciamo. Dice ma dopo mi pare di 16 kg di Palmandò qua sotto il muro la portavo solo io sotto ma tu sta biondo quando ti afficci la Palmandò butta la rana la sabbia la sabbia per costruzione per costruzione per i muratori di terra ma là veniva tanta gente. Quanti muri avevate? Eh prima una volta ne avevamo 4-5 dopo prima della guerra dopo ci sono ripresi i tedeschi quando venne mio padre poveretto si mise a piangere dopo li ricombrammo due muli 4.700 lire dopo di quello ne compriamo un'altra due ancora e rifacemmo i muli portavo portavo la farina a questi qua il grano farina grano torta e ne avevamo due o tre di carretti lo guidava lei? Eh io mio padre qualche operaio che aveva con me c'era gli operaio un operaio una volta c'era i stanchieri l'altra volta c'era avuto per tanto tempo Vincenzo Arcaini eravamo come una famiglia allora si prendeva poco i pochi soldi che avevamo e lei quando si faceva sti giri per la città col carretto era un lusso poi avevano un giro dei ragazzi di Teramo quei tempi c'era un amico Luigino Lupi che morì il dottor Cavarocci tu veneva sempre con me voglio venire con voi andiamo verso il fiume come vedo questa qua la terra di riporto l'ha quasi coperto completamente questa è la parte superiore dell'archivolto del ponte degli impiccati un ponte che risale all'epoca romana ma che nel medioevo veniva usato per l'esecuzione di condannati a morte tramite impiccaggione ecco perché è rimasto questo nome chi ha qualche anno in più ricorderà che qui sopra c'era anche una piccola edicola con un effigio un'immagine della madonnina del ponte degli impiccati oggi appunto rimane questa la parte così superiore perché sia le erbacce sia la terra di riporto sono scese molto in basso e non è rimasto quasi niente l'anno scorso un'iniziativa degli ambientalisti ha tentato di riportarlo alla luce ma come vedete sarebbe molto difficile passando di qui rendersi conto di che cosa c'è sotto qua ci stava quel muretto quel dinanzi ci stava il miracolo di San Berardio era la madonna delle grazie stava fatta che ogni tanto noi lo ripulevamo facevamo la festa chi voi i bambini? tutti quelli medioevo piccoli ci portavano i pastarelli ci portavano i coschi un altro e poi qua sotto quando pioveva ci mettevano la sotto noi per proteggervi dalla pianta anche da carrettiere io quando portavo i muli mi prendevo l'acqua qua e mi andavo la sotto senta queste feste è vero che brindavate con un liquore molto di lusso un liquore di lusso che si faceva con lo spirito e la bottigluccia e dicevo facciamo un bicchierino di risorio risorio con lo spirito proprio quello lo spirito però era un'azienda perette riprendevate anche qualche sborni allora si la sborni lei quando si è trattato di ripulirlo il ponte è andato proprio sotto sotto è ancora vuoto la sotto ci stava un po' di barattoli perché questo la terra è venuta da là allora appena chiuso l'arco è rimasto vuoto sotto questo era il divertimento nostro che non avevamo una lira non avevamo niente e la domenica stavamo sempre qua torno chi giocava a palline chi riprendeva il sole chi giocava a carte manca una fotografia ci potevamo fare perché non ci stava le possibilità devo dirvi che questi territori questi terreni erano lavorati ad orto proprio dai pazienti dell'ospedale psichiatrico fiuma che ce ne veniva tante lavandaie a lavare i panni perché si trovava qualcosa per lavare poi io ero un ragazzo facevo il carrettiere io riaggiustavo le belle reganelle gli portavano le pietre gli portavo le pietre per lavare una, due, dieci pietre ognuno aveva la reganella per conto suo quando qualche volta non mi pagava le sigarette io con la mazza rompevo tutte dopo si metteva a litigare qualche volta si tirava per i capelli questa è la prete la mia si metteva su un lente io morlavo con l'acqua sporca era un cinema da quelli bravi ci scriveva anche il nome nella lapide, la pietra un artista era un artista davvero qua su fece una reganella che ora mi dispiace che ora sono morta allora facevo l'amore con mia moglie e gli fece una reganella con il pavimento sotto con quei mattonelli sagonari perché qua l'acqua così faceva qua era largo era sì che era una spiaggia di mare quando lei era ragazzo mi aveva contato anche che cosa ti facevate con la creta con la creta facevamo i pupazzetti del preseo facevamo le teste per fare pulcinella come facevi a prenderla lente? e poi li vendevate? no ci giochevamo ci stava qua l'amico mio Vincenzo Cimini che poi non padre lui faceva i pupazzetti li metteva a cuocere dopo li tingeva a me mi fece tutta la serie del presepe una volta si accedeva a passare con una scala che là quella fu una tonella che vi ho dato la scala sta vicino al ponte degli imbiccati appoggiati ci stava uno si chiamava Novelli Giuseppe qua era il compare due o tre volte che metteva la scala ma scusi lei con i muli dove passava? con i muli io attraversavo l'acqua però la gente che veniva da Viola da Cannelli da quassù in campagna per non fare tutto il giro del ponte allora passava qua e si chiamava lo scalare no lo puntarole dice quando andavamo in campagna con questo compare a ritirare qualche soldi gli dava l'uovo gli dava l'uovo gli dava l'uovo gli dava l'uovo chi ti dava l'uovo chi ti dava 100 lire chi 50 chi non ti dava niente qualche volta quello che non gli dava niente lo riconosceva il mio compare toglieva la scala dice faccia passare dice no io passo qua allora se tu passassai prima ti dava la scala le culeppi dove stava la scala oggi è diventato come fosse un piccolo ruscello perché una volta era largo dalla sponda alla sponda era una camminata lunga poi era bello bianco pulito l'acqua l'ho bevuta da ragazzo fino a vent'anni ho sempre bevuto l'acqua qua al fiume dove facevo le reganelle le levantate dopo è venuto certe piene che diventava bianco pulito si scavevamo la sabbia lavata per portare ai muratori la sabbia fina per fare lo stucco tutto lei se la ricorda qualche piena importante? mi ricordo la piena del 54 che si portò via due case qua giù sotto al ponte San Francesco portata via la casa del vivaio la casa dell'acqua come si chiamava quello che faceva il fioraio la casa di Borelli mezza casa si portò via signora lei abita qui no? ed è qui che stava l'inulino dove in questo momento? qui, quella è la porta centrale e lei ci stava connesso qui dentro c'erano le macine tre macchine e adesso non c'è qui niente dentro tutto abbattuto quando è stata abbattuta? eh... dieci anni fa la nostalgia dell'inulino era tanto Fantoio dov'era? Lei abita qui sopra? sì e dov'era il Fantoio? qui proprio in questa porta in questa porta adesso la apriamo cosa c'era dentro in effetti? quando uno entrava che vedeva? vedevo il separatore, i motori, le presse quelle che c'è la pompa vedevo tante macchine le macchine proviamo un po' a aprire vediamo che cosa ci sta adesso all'interno del frantoio troviamo ancora la bilancia come che si chiama? questa è la basca che ci si pesava qua sopra? l'oliva, l'olio e tutto la sanza tutto questa è rimasta qui da allora? da allora e ci ho avuto molte riceste per vendere però mi è rimasto... non l'ho venduto in questa stanza che cosa c'era? c'era una pressa di qua e poi due sopra pressa di qua e una pompa di là a tre colpa la lavanderia di biondi che qua ci stava la bottega che vendeva tutti i cottoni, lana e poi stava la lavanderia industriale prima era in piccolo, dopo ci stava la piccola tintoria prima, dopo mise la lavanderia industriale e ci lavorava quattordici, quindici persone nelle foto che abbiamo visto di lei con i muli ci sono proprio i palli stessi? sì, qua ci stanno le lenzuola che andavamo a caricare con il camion qua su di Gianluca ad Ascoli Piceno, ogni domenica andavamo sull'allievo ufficiale di Ascoli, li lavava, li stirava e gli si riportava qua i giovanetti, i ragazzini, insomma un po' così birboncelli, giocavano a un gioco strano, vero? sì che facevano signora? quando c'era la neve veramente, no? allora, senza una slizza, giocava una slitta una slitta una slitta una slitta e come si facevano a fare? sì, ragazzini con tutti i legni perché a quei tempi non c'era niente di divertimento e quindi si scivolavano giusto sì, scivolavano e come si diceva sto gioco? poi vedo su un lupetto su, forse, forse sempre scivolavano come si diceva sto gioco? si chiamavano il lice cagù si metteva dentro a un tegame, un bacile vecchio quello era il divertimento di ieri del 40, 41, 45 dopo la guerra prima poi la, il ricordo più che mi è rimasto in Bresto di qua, che ho nato qua, l'epoca di guerra e i tedeschi stavano seduti sopra quel muro, che buttava il pane di sopra e c'era una donna che aveva sette figli raccoglieva quei tozzi che buttava i tedeschi, li metteva dentro la, alla panninzi dicevamo noi, la ragazza io torno a casa e gli ho detto mamma ho fatto distanza una donna si ha raccoglito i tozzi di pane, ero figli quello c'ha sette figli chi gli dà a mangiare? anzi dopo l'abbiamo chiamato e ho dato un po' di farina a mia madre tutta col dentro la cabina dell'Enel, voi direte che cosa avrà adesso da dire anche sulla cabinetta dell'Enel? eppure mi hanno fatto notare che questa piccola costruzione è a suo modo un bel esempio di una costruzione ad uso industriale degli anni venti che riprende felicemente qualche accenno Liberty ora ci siamo portati proprio sopra la borgata Vezzola, sopra la via del mattatoio vecchio perché qui c'è una cosa che apparteneva, che nessuno vede più perché è inondata dalle macchine comunque è un po' difficile vedere cosa c'era qui signora Domenica? qui ci stava la basqua sarebbe la pesa, sarebbe la bilancia? no, la bilancia stava lì e qui ci si appoggiava i carri, ci si appoggiava quello da pesare quindi la merce o le cose da pesare venivano messe qui sopra questa automaticamente insomma il peso si leggeva invece nella casetta qui di fronte e chi c'era dentro? Un funzionario, un piegato? uno funzionario comunale quassù ci stava il danzo, è vero che qualcuno cercava di gabbare? si si, che faceva? allora un giorno una contadina si era nascosta un paio di poli col petto perché sicuro doveva pagare doveva pagare no allora mentre che passava i poli si misero a cantare allora quella il danzier diceva così si fece una risata e la signora padò però? no non padò non padò ma quando è una risata più forte no 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 è Grazie a tutti.